Oggi 2 settembre 2022 Aldo racconta la storia delle stazioni ferroviarie, la storia attuale però non del passato perché Aldo vive ogni giorno ad ogni stazione della Lombardia, vedete dalla bacheca in fondo là, sono alla stazione di Desenzano sì, questa stazione di Desenzano tutta rifatta nuova è davvero un capolavoro dell'architettura moderna a parità il livello tra la terra e il treno, ma cosa voglio di più? Al giorno d'oggi c'è una modernità tale che anche se uno fa fatica a camminare va lo stesso in giro, basta avere la volontà e anche i soldi e ma sono qua, come vedete in fondo la stazione di Desenzano, ero stato due anni fa, oggi sono andato a piedi, in bussa anche fino a Rivoltella a vedere che cosa, ma una cosa favolosa, un laghetto, oltre ad essere affiancato al lago di Garda c'è un laghetto molto bello nella piccola città di Desenzano intitolata questo laghetto dalla scrittrice che ha scritto il libro Io vado dove mi porta il cuore sì, sì, da quella scrittrice lì lo sapete benissimo che è Oriana Falacci e hanno dedicato il piccolo laghetto a questa scrittrice, poetessa diciamo pure che ha voluto dare un significato allegorico anche al viandante Aldo infatti Aldo è la persona che va nei vari luoghi dove mi porta il cuore qui ho conosciuto in questo luogo di Desenzano una persona e il cuore mio è ritornato a rivivere nuovamente dopo tanti anni eccola al treno che va a Verona vediamo, vediamo Verona, ma io devo dire la verità devo dire la verità e la dico come la penso questi treni nuovi non mi piacciono il colore e non mi piacciono per l'aria condizionata che c'è all'interno così maledetta e dico esplicitamente la verità non mi piacciono infatti io sto aspettando l'altro treno che va a Milano Centrale di epoca passata, di anni indietro ma molto più bello dove l'armonia del vivere nel viaggiare in un treno riempie la personalità individuale in modo soggettivo non strumentalizzato da questo davanti che è una copia disumana questo treno io lo dichiaro così infatti non mi piace allora preferisco i treni a freccia rossa altri treni ma proprio questo occhio verde acido e poche porte questo treno non mi piace non mi piace e ora va a Verona va a Verona ma io ritorno indietro a Brescia per visitare la metropolitana sì sono qua Aldo il sottoscritto alla stazione di Desenziano che aspetta il treno di ritorno Aldo a Brescia per visitare la metropolitana